Qui oggi è andata salendo l'acqua da stamattina, infatti nell'ultima prova specialmente dal Cosa, quindi ho fatto praticamente tutta la prova col motore che non girava un granché bene, rantellava parecchio e mi ha dato qualche problemino. Abbiamo allungato tantissimo sul guidato, lì abbiamo fatto proprio la differenza, perché devo dire che siamo andati proprio forte nel guidato, però poi non eravamo tanto supportati dal motore, perché l'acqua ha fatto sicuramente qualche danno, candele, filtri aria, adesso non so cosa, contatti, ma non girava come è il solito Suzuki, però è andata benissimo comunque. C'è di buono che col tempo così brutto non stiamo patendo il caldo comunque, quindi il tempo ci ha aiutato un po'. Abbiamo spinto forte, le prime due speciali, devo dire a mia sorpresa, sono usciti dei buonissimi tempi, anche se avevamo qualche problema con la pioggia e con l'acqua, quest'ultima speciale abbiamo comunque spinto forte, ma non è uscito un tempo velocissimo, forse il fondo asciugandosi e scavandosi tanto ci ha messo un po' più in difficoltà, qualche piccolo errore di navigazione, ma per il resto puntiamo a far bene domani. Meglio puntare la classifica dell'italiano o essere in testa al mondiale? Allora, quando ti direi classifica dell'italiano guardando un po' avanti, cercando di non salvaguardare il mezzo, ma quando sei sopra alla fine più forte di me vai sempre a tutto quello che ne ha. Sapevamo che potevamo far bene, con Angelo Montico abbiamo studiato bene il setup del mezzo, anche a Vidor le ultime modifiche apportate hanno funzionato bene, certo che per questa gara abbiamo caichi di benzina molto più alti, piastre di rinforzo per salvaguardare il telaio molto più pesanti che ci rendono un po' più lenti delle solite altre gare.